Andiamo, il comitato vi sta aspettando. Buongiorno. Buongiorno, ma mi sa, ci parlerei con questo qui? Sa, se state guardate il tempo, io dico una persona onesta che paga le tasse e che innocente. Innocente è un corno, io gli altri li faccio incriminare. Dottor, non avete le prove. E voglio il mio avvocato. Brigagliere, porta a chiamare l'avvocato qua. Ecco, ma mi sa. Pronto? Sì, pronto? Avvocato Ciancetti? Sì, sono io. Avvocato Ciancetti! Il suo cliente ha bisogno di aiuto. Certo, arriva subito in commissariato. Sì, si sta a posto, dai. La sentiamo con profonda solitudine. Oh, sta arrivando, eh. Spero per lei che sia davvero un buon avvocato. Spero che ti metti in galera a te, dunque. Il mio cliente è innocente. Allora, una motoreta si è appengata a tutti. Il mio cliente è innocente. Quindi, qui non dobbiamo fare tanti discorsi strani. Voi non avete prove. Ma è proprio sicuro che non abbiamo prove? Allora, se voi non avete prove, non potete dirmi che lui è colpevole. Non ci sono prove. Questo tipo non vea dice giusta. Allora, il tipo di cambiamento dei miei amici non è una prova. Se permettete, vado un secondo in bagno. Va bene, io devo fare una telefonata, non tanto. Obbriga via. Pronto, marescia? A ver, quel fatto è là, no? Sì, l'imputato è tutta. Com' mi sta? Oddio, com' mi sta? Oddio, com' mi sta? Com' mi sta? Obbriga via, com' mi sta a posto. Com' mi sta a posto. Giubbotta antiproiettili, mi ha salvato la vita. L'assassino è l'avvocato Ciancetti. No! Andiamo in bagazzi un parco. Avvocato Ciancetti, apri la porta o sei un po' spessi a sfondarla. Brigadierco, andiamo. Avvocato Ciancetti. È morto. No. Un assassino in meno in questo mondo senza speranza. Vediamo se è veramente morto. È proprio morto. Ti ho abbringati a... L'assassino è... Giuseppe. Giuseppe Lustrom! Grazie a tutti. Grazie a tutti.